E poi andremo con le schermate con Alessandro a capirne qualcosa in più. Il Catania è sotto negli scontri diretti, sotto significa che se alla fine del campionato dovesse classificarsi allo stesso punto con Livorno, col Sassuolo e col Chievo. Quindi è proprio sotto. Parità di punti va giù il Catania. L'unica squadra con la quale il Catania è in vantaggio sugli scontri diretti è proprio il Bologna. Parzialmente. Perché ha giocato all'andata. E quindi il campionato che cosa ci racconta? Che fra sei giorni si gioca per l'appunto Bologna-Catania. E da lì partiamo con le schermate di Alessandro. Facciamo subito vedere il dettaglio dei confronti diretti. Quindi la schermata che ci dà l'unità di misura di queste ipotesi di arrivi a pari punti tra il Catania e le altre pericolanti. Antonio Frisenna... No, l'altra schermata, non questa. Questa è ovviamente la volata che è il riassunto un po' di queste ultime due giornate. Eccolo qua. Eccolo qua. Vedete quello che diceva Pocanzi Angelo. Troviamo un attimo il logo di corner così perché non nascondiamo niente. Il Catania è in vantaggio per aver vinto contro il Bologna 2-0 a gennaio. Domenica sapremo ovviamente il risultato della partita di ritorni. In svantaggio con il Sassuolo e con il Livorno per aver fatto un solo punto tranne da del ritorno. Col Chievo invece perfetta parità nei confronti diretti. E' peggiore differenza a reti generale del campionato. Vedete il Chievo ha un meno 22, il Catania ha un meno 34. Quindi è un divario assolutamente incolmabile. Significa Alessandro, diciamo che il Catania dovrebbe fare praticamente 15 gol nelle prossime partite. Fanta scienza. Finiamola. No, diciamo. Spieghiamo che cos'è perché magari la signora Maria si sta appassionando al Catania soltanto adesso. Adesso Antonio Frisena ci fa rivedere la classifica per poi introdurre il calendario dei confronti che attendono le squadre pericolanti fino alla fine del campionato. Quindi la classifica della Serie A per il comparto che ci interessa è con un asterisco sul Sassuolo che ci dice che domani c'è Fiorentina-Sassuolo. E allora cominciamo intanto a ipotizzare che il Catania, toccando ferro, vincendo a Bologna si possa mettere nell'ottica di arrivare a 32 punti battendo all'ultima giornata l'Atalanta. A 32 punti, anche se ci arrivasse il Bologna vincendo l'ultima giornata, il Catania sopravvanzerebbe il Bologna per aver vinto a Bologna e per avere quindi il confronto diretto in vantaggio del Bologna e quindi il Bologna sta dietro il Catania. Le variabili impazzite sono due, il Sassuolo e il Chievo. Perché chiaramente il Chievo, che è una squadra in questo momento in rottura prolungata, riduce da tre sconfitte consecutive, dopo aver vinto a Livorno, praticamente a Verona già festeggiavano la salvezza. Dopo quella partita hanno perso in casa col Sassuolo. A Genova con la Sampdoria erano avanti 1-0, hanno perso al 93, in 10 uomini la Sampd, e ieri hanno perso in casa col Torino. Quindi è una squadra sull'orlo di una crisi di nervi. Anche perché noi ragioniamo su tutte le altre squadre, ma è chiaro che il Chievo si fa il ragionamento, non solo che il Catania sta rinvenendo, ma anche sul fatto che non ha distanziato il Bologna, non ha distanziato il Sassuolo e quindi sente il fiato sul collo, la pressione. E quindi andare a giocare poi a Cagliari, domenica, per il Chievo, è una partita apparentemente semplice, perché il Cagliari ormai è salvo. Facciamo un discorso, scusami Alessandro, così chiaremo meglio. Quindi quota che il Catania deve centrare è 32. Se non vince a Bologna non abbiamo parlato di niente. Non abbiamo parlato assolutamente di nulla. Facciamo una cosa, intanto il Sassuolo ha 28 punti. 28 punti, deve giocare. Domani a Firenze, domenica col Genoa in casa, e chiude a Milano col Milan. Eccoci qua, questa è la partita... Ecco perché se domani la Fiorentina vince, è un risultato per il Catania chiave. È la partita chiave, perché se il Sassuolo domani perde, vincendo con la Genoa può arrivare a 31, il Catania, abbiamo detto, la proiezione Bologna-Atalanta porta a 32, significa che il Sassuolo per appaiare il Catania, perché sappiamo che il confronto diretto ci penalizza, deve fare almeno un punto a Milano col Milan all'ultima giornata. Il che, voglio dire, non è scontato, perché il Milan, vincendo ieri il derby, si è rilanciato bene in chiave Europa League. Giocherà domenica con l'Atalanta a Bergamo, una squadra che ormai è abbastanza. Atalanta che sta pareggiando a Torino, siamo all'ottavo minuto. Il Milan, vincendo il derby ieri, si è messo nella condizione di giocarsi alla morte l'ultima partita col Sassuolo, tra l'altro ha perso all'andata con Sassuolo 4-3, una partita pazzesca, perdeva 3-0, Sassuolo ha vinto 4-3, gol di Berardi a Raffica. Il Sassuolo a quel punto trova un avversario motivato, perché è inutile nasconderci l'angelo, in questo momento a due giornali alla fine contano soprattutto le motivazioni. Chi ne ha di più può vincere le partite, chi ne ha di meno, fisiologicamente è uno sport, è chiaro che accusa il colpo e magari perde la partita. Ricordiamo un attimo quella schermata, perché quella schermata era... La volata salvezza, riassunta... È assolutamente significativa. La volata salvezza, che adesso ci mostra Antonio Frisena, ci dà il dettaglio di tutti gli incontri che attendono le pericolari da qui alla fine. E qua stiamoci un bel po'. Abbiamo detto Cagliari-Chievo. Sì. Da un punto di vista di motivazioni, il Chievo dovrebbe andare a Cagliari e vincere. Ok. Ma se non dovesse vincere, attenzione perché il Chievo si mette nei guai, perché poi l'ultima giornata riceve l'Inter, che è ancora in piena lotta per l'accesso all'Europa League. Ed è un motivo anche per cui, andando a esaminare il Bologna, beh, se noi lo battiamo non ci interessa più, perché il Catania poi, battendo l'Atalanta, si mette a 32, il Bologna non lo può fare più. Lo porti giù. Te lo porti giù, definitiva. Ti porti giù il Bologna. Chiaro. C'è Levorno-Bologna, già se tu vinci... La chiave di volta è Fiorentina-Sassuolo, per me. Se domani la Fiorentina vince, e la Fiorentina, se Antonio al volo ci fa rivedere la classifica attuale della Serie A, i motivi per vincere la Fiorentina ce li ha. Ce ne ha tanti. A parte il fatto che, già da... Lo svelo, insomma, in retroscena, anche per far capire in questo momento quale concentrazione c'è in casa Catania. È da ieri, che praticamente le utenze intestate a Vincenzo Montella e a Juan Manuel Vargas sono tempestate di telefonate e messaggi da parte di tutti i giocatori del Catania, che ovviamente vogliono impegno massimo. Non c'è bisogno che la Fiorentina, secondo me, ha motivi per giocare. Però spieghiamo perché ha motivi per giocare. Primo, ancora ipoteticamente può raggiungere il Napoli al terzo posto. E dice, vabbè, questa è un'ipotesi irremota perché... Lasciamo stare questa. Vabbè. Chi in casa? L'altra più importante è che se la Fiorentina dovesse perdere il quarto posto e ci sono dietro squadre che stanno rimanendo, significherebbe che deve iniziare la stagione ai primi di luglio per fare i preliminari di Europa League. Spieghiamolo, perché c'è sempre, voglio dire, la signora Maria Cade... Il quarto posto concede l'accesso diretto ai gironi di Europa League. Vai, in Europa League. Il quinto posto fa invece passare a terzi i preliminari. Significa stravolgere completamente la preparazione atletica della stagione. In una stagione dove ci saranno anche i mondiali. Significa che la Fiorentina, che i giocatori che andranno ai mondiali ce ne ha tanti, praticamente avrà da inventarsi un ritiro così a fretta e furia per affrontare questo preliminari. Quindi l'esigenza della Fiorentina è di vincere. Guardiamo la classifica. Assolutamente. Perché quel quarto posto è la Fiorentina, quella quota 61, per la classifica e per come è, va mantenuta. Rinviene l'Inter, può rinvenire il Torino, il Parma si fa sotto, il Milan fa a spallate. Significa che la Fiorentina in realtà domani probabilmente, voglio dire, se la gioca tutta fino alla fine, ha motivazioni importanti. È anche vero che probabilmente lì un punto il Sassuolo, se è bravo, se fa le baricate potrebbe anche guadagnarselo. C'è un punto. Anche perché il Sassuolo, attenzione, è la squadra che insieme al Catania ha offerto molto di più nelle ultime settimane. E allora, domani diventa fondamentale. Sassuolo non deve vincere. No, deve perdere. No, se fa un punto è come se avesse vinto, attenzione, per quanto ci riguarda. Quindi, Fiorentina, Sassuolo, domani un solo... Fermo restando, vi ripeto, che il Genoa io lo do per dente contro il Sassuolo. Attenzione. Anche qua, voglio dire, possiamo ragionarla. Come stiamo dando vincendo il Catania con l'Atalanta. Allora, noi stiamo dando per lo stesso principio. Noi stiamo dando con un principio, assolutamente... Se vale per Catania-Atalanta, vale per Sassuolo, Genoa e per Cagliari-Chievo, ipoteticamente. Allora, ipotizziamo che all'ultima di campionato valgano le motivazioni. Ipotizziamo che all'ultima di campionato, Gagliano... Chievo-Inter, ultima giornata, Angelo. Ecco perché se il Chievo non vince a Cagliari ne guai. Guarda l'Inter. L'Inter è in piena bagarre, perché c'è il Torino, c'è il Milan, c'è il Parma. Alessandro, per l'Europa si classifica. Allora, Juventus e Roma vanno in Champions. Fiorentina accede al momento all'Europa League senza passare dai preliminari. Significa senza stravolgere un inter... Tutti vogliono fare l'Europa League, o meglio, ma tutti non vogliono fare i preliminari. La ragione per cui molte squadre dicono che... Non mi guardate così, Alessandro. La storia dei preliminari, i preliminari di Champions, in questo caso i preliminari d'Europa League. No, poi chi non vuole fare i preliminari sono fatti i suoi. Detto questo, però, nel calcio, nel calcio, non fare i preliminari significa non stravolgere la preparazione. Cioè, nel calcio vale la regola diversa. Puoi compromettere la stagione, Angelo. Della vita, di relazione. Credimi che per una squadra poi blasonata con la Fiorentina, che ha ammizioni, magari l'anno prossimo vuole alzare ancora di più la sticella, può diventare veramente una zavorra. Sono tanti starieri che parteciperanno a un'altra parte di questo. La Fiorentina non vuole perdere quella posizione. Si fanno sotto, però, Inter, Torino, Parma e Milan a insediare proprio quella posizione che gli permetterebbe a Inter, Torino, Parma, ipoteticamente anche il Milan, di andare a trovarsi lì. Sicuramente l'Inter, il Torino un po' meno, però l'Inter è la squadra che maggiormente può mettere, voglio dire, il Pepe addosso alla Fiorentina. L'Inter ha la Lazio domenica. È chiaro. La Lazio dopo questo pareggio chiaramente un attimo si è ridimensionata. E poi chiude a Verona col Chievo. E chiude a Verona. E allora sta là l'esigenza della Fiorentina di chiudere il campionato domani, se ci riesce. E questa per il Catania è la partita chiave. Torniamo alla lotta. La schermata volata salvezza quindi a quelle partite che attendono tutte le squadre impegnate per salvarsi. Guardiamola perché questa storia è incredibile. Vi ho detto che riguardava non soltanto la parte bassa a destra del teleschermo, ma riguardava davvero Fiorentina, Inter, Torino, Parma, Milan e Lazio. No. Antonio, la schermata volata salvezza con le partite che restano da disputare per le squadre che lottano per non retrocedere. Poi prendere carta e penna. Quindi eravamo fermi al Sassuolo. Sassuolo, quindi abbiamo detto partita domani alle 19, se non ricordo male. Poi alle 21 c'è Napoli-Cagliari. Tutti a guardare, tutti davanti ai teleschermi chiaramente domani. Tutti a rifare Fiorentina. E sappiamo tutti che domani rifiamo Fiorentina. Poi domenica Sassuolo-Genoa. È chiaro. Le di sopra. E poi ultima partita Milan-Sassuolo che a quel punto se si verificasse la sconfitta del Sassuolo a Firenze e la vittoria del Catania a Bologna noi lunedì prossimo potremmo cominciare a parlare in tutt'altro modo. Cioè nel senso che a quel punto la salvezza del Catania veramente diventa un fatto tangibile a portata di mano. Allora chiamiamo un attimo e così cerchiamo di essere un po' Fiorentina-Sassuolo deve finire 1 Bologna-Catania deve andare al 2 noi tutta questa storia la raccontiamo lunedì prossimo è chiaro che incrociamo E poi l'ultima giornata Milan-Sassuolo deve finire 1 No Occhio Fiorentina-Sassuolo 1 Ok Bologna-Catania 2 Ultima giornata Sassuolo-Genoa Lascia stare Ascolta Sassuolo-Genoa e Catania-Atalanta diamole cioè se no demoliamo anche il nostro ragionamento sul Catania Facciamo una cosa Anche Cagliere 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 Allora noi stiamo dando per scontato tre partite che le diamo per scontate per una coerenza di di analisi di analisi però ti voglio dire che Sassuolo-Genoa beh possono esserci motivazioni indirette del Genoa nel confronto col Sassuolo voglio dire motivazioni che possono nascere da ci sono contestazioni fra l'altro a Genoa in questo momento per il campionato che sta disputando io personalmente sono convinto così chiudiamo un pochettino questo discorso e andiamo al finale perché mancano due minuti che è chiaro che Fiorentina-Sassuolo domani è una partita chiaramente da guardare da cercare di sapere qual è il risultato tutti con la Fiorentina-Casa e tutti con la fetta di Fiorentina però sostanzialmente io credo che la cosa più importante in assoluto è che il Catania deve annullare uno zero che ha in questo momento nei risultati in trasferta a Bologna dove ci sarà una partita col coltello fra i denti cioè non è che sarà non è certamente una passeggiata è una finale di Champions League qui il Catania deve dimostrare un'altra cosa ancora più importante non solo l'annullamento di questo zero ma anche il fatto di confermare un risultato dopo un altro cosa che ha fatto raramente due vittorie consecutive non l'ha mai fatta o li fa oppure Alessandro posso chiederti una cosa così anche quando si classifica a Vulsa a tre volevamo spiegare ecco perfetto qualora ci sia un arrivo a pari punti di più squadre quindi non di due squadre ma di tre squadre per esempio Sassuolo Catania e Bologna il Catania purtroppo è penalizzato rispetto al Sassuolo perché il Sassuolo ha fatto quattro punti anche nei confronti retti col Bologna e quindi in questa classifica Vulsa si porta a otto punti e anche se il Catania vincesse a Bologna arriverebbe a sette punti sei col Bologna e uno col Sassuolo un minuto un minuto dentro e fuori se a Bologna il Catania pareggia e non vince è finita è finita matematica matematica no matematica no realisticamente è finita è realisticamente dovremmo raccontarvi altre cose 55 secondi Luca ti auguro in bocca al lupo e forza Catania spero di fare una festa nella festa il 21 maggio noi il 21 maggio ce lo auguriamo Luca lo auguriamo a te lo auguriamo ai ragazzi e alle scuole lo auguriamo un po' a tutti quanti anzi grazie per essere venuti bravi e complimenti ragazzi noi ce lo auguriamo anche per i tifosi ce lo auguriamo per noi e ce lo auguriamo che i giocatori del Catania questa sera abbiano ricavato se hanno visto corner quella animo spugnandi per andare a Bologna a fare la guerra la guerra di che vale una stagione allora io l'ho detto in partenza